Grazie. L'11 marzo 2020 e con responsabilità e coscienza noi commercianti, ancora prima che si decidesse il lockdown, avevamo già pensato di chiudere. Dopo due mesi ci siamo dovuti attrezzare per la riapertura con sanificazione dei locali, guanti, mascherine, disinfettante, visiere, oggetti monouso, plexiglass a protezione nostra e dei clienti, entrate contingentate, ristoranti e bar con ridotta capacità di posti. Questa è la nostra realtà. Marciano tutti! Buonasera. Buonasera. Ciao della Castronomia Fontana. e ciao io sono Robby salve un saluto a tutti e speriamo di vederci presto senza mascherina ciao 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 a tutti ciao a tutti ciao 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 a tutti ciao ciao a tutti ciao 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 da tutto il panificio Panara ciao ciao a tutti ciao 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 a tutti, tutti i commercianti, tutti i lavoratori e a tutti gli italiani Ciao a tutti Salve Ciao a Darinnell Ciao Ciao a tutti Ciao ragazzi Ciao Ci vediamo Ciao 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 Ciao, sono Angelo Ciao 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 Vi aspettiamo Ciao 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 Ciao! Grazie a tutti!